sono simone ferracci faccio il parrucchiere e sono manager del salone design roma in vero europa mi chiamo chiara vizzuti sono una parrucchiera e in salone mi occupo della parte tecnica quindi tutto quello che riguarda il mondo della colorazione sono giacomo e sono lo store manager di design salona roma l'idea di design è nata da una forte passione per la colorazione infatti il nome dei sign è proprio la crasi tra dai che colore sign che firma che segno quindi firma sul colore alla base c'è un metodo definito e forte e quindi riusciamo a lavorare tutti come se fosse la stessa mano poi ognuno ci mette la sua personalità ognuno firma il suo lavoro dal mio punto di vista quello che è necessario all'interno in salone anche avere molto a cuore l'accoglienza il servizio che si pone alla cliente ma soprattutto l'organizzazione del salone le difficoltà che ho incontrato maggiormente è che il parrucchiere di fondo spesso e volentieri raccoglie dati ma poi non gli elabora koala ho la fortuna di avere un controllo di gestione dettagliato quindi su ogni collaboratore su ogni servizio uguale mi dà un grande controllo del salone infatti anche quando non ci sono posto verificare cosa sta accadendo le presenze nello stesso momento posso controllare gli incassi posso verificare anche i tempi dei servizi a distanza quindi diciamo che quella è stata la cosa che mi ha colpito di più mi aiuta appunto a gestire il salone da casa l'ho più volte detto e ridetto e sembra ancora strano per molti parrucchieri ma tramite uguale la possibilità di controllare minuto per minuto il mio salone quello che accade all'interno quello qualsiasi cosa che l'agenda può mostrarmi e se non può mostrarmi l'agenda me lo mostrano le statistiche a fine serata c'è la parte del magazzino che è una figata tremenda che il magazzino è penso uno dei punti deboli del parrucchiere è sempre una catastrofe è uguale secondo me c'è un gran sistema di magazzino soprattutto anche la gestione dei turni dei dipendenti le loro ferie trattamenti che possono non possono effettuare uguale innovativa uguale giovane veloce e forte intuitiva affidabile è il mio miglior amico